Ciao, benvenuti su Cartisia! Oggi vi propongo dei rimedi naturali per depurare intestino e colon. Pulire il colon è molto importante al fine di evitare malattie come coliti, colon irritabile e tante altre. È importante aumentare il consumo di acqua, ridurre il consumo di farine e di zuccheri. Quindi, se volete evitare l'accumulo di tossine, bisogna portare a tavola alimenti ricchi di fibre e dalle proprietà antinfiammatorie. Oggi vi farò vedere tre rimedi naturali. Primo rimedio naturale è il succo di carota. Il succo di carota contiene fibre antiossidanti che aiutano a migliorare il transito intestinale e vi aiutano ad eliminare più facilmente gli scarti. Avete bisogno di 3 carote e 100 ml di acqua. Frullate il tutto e il vostro succo di carota è pronto. Quindi, per pulire il vostro colon, bevete un bicchiere tutti i giorni e mezz'ora prima di fare colazione. Secondo rimedio è il succo di mela oppure le mele cotte. Il succo di mela contiene fibre, stimola il vostro intestino e vi aiuta ad eliminare gli scarti facilmente. Avete bisogno di 2 mele e 100 ml di acqua. Quindi, frullate il tutto e bevete il vostro succo di mela meno 3 volte a settimana. Oppure, se volete, potete prendere 3 mele cotte 3 volte a settimana. Come ultimo rimedio abbiamo il succo di pera. La pera contiene una grande quantità di pectina e antinfiammatoria, ma soprattutto a qualità lassative. Vi aiuta ad eliminare facilmente gli scatti. In questo caso avete bisogno di 2 pere e mezza tazza di acqua. Oggi insieme realizzeremo il succo di pera. Mi raccomando, dovete effettuare questi rimedi uno alla volta. Quindi, una volta alla settimana prendete per 3 giorni il succo di carota, un'altra settimana prendete il succo di mela e un'altra settimana ancora il succo di pera. Quindi, lavate bene 2 pere e mettetele nel frullatore. E poi tagliate le vostre mele all'interno del frullatore. Dopodiché aggiungete o mezza tazza o mezzo bicchiere di acqua. Andiamo a frullare il tutto. Dopo aver frullato il tutto, il nostro frullato è pronto. Mi raccomando, bevete il frullato subito per non perdere tutte le vitamine e proprietà benefiche. Bevete a digiuno per 2 settimane. Almeno per 3 volte a settimana. Quindi, potete effettuare questi rimedi cambiando sempre. Una volta fate la carota, una volta la mela e una volta il succo di pera. Credetemi, otterrete davvero grandi risultati. Ed è pure buono e piacevole da bere. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante ricette in arrivo e non solo. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Baci da Cartisia. Mi raccomando, è molto importante depurare il colon. Non trascuratelo mai. Ciao, alla prossima! Ciao!